La Deluxe Edition di Berserk, pubblicata da Dark Horse negli Stati Uniti, riconosciuta in tutto il mondo come la migliore dedicata finora al capolavoro dello scomparso Kentaro Miura, approda a Panini Comics. Sono previsti 12 volumi, il costo di ogni volume sarà di 50 euro, come nella versione Dark Horse. Berserk racconta il lungo viaggio di Gatsu, un guerriero maledetto che per il bene della donna che ama combatterà senza esclusione di colpi e colpi di scena tra battaglie cruente e mostri deformi per ottenere vendetta. Conosco questo lavoro di Kentaro Miura da anni e questa bellissima edizione rende un'ora al maestro, è dunque un libro bello da vedere e un vanto da esporre.